Quest'oggi presenteremo il progetto Atlas, è un progetto finanziato dal programma Italia Croazia 2014-2020 che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale dell'area programma Italia Croazia per l'appunto. Facendo leva su questo patrimonio l'obiettivo del progetto è quello di sviluppare quell'economia sulla cultura di cui tanto si parla ma di cui tanto ancora c'è bisogno di investimenti. Come figlio di innovazione noi abbiamo un obiettivo molto preciso, riuscire a trainare le imprese, gli operatori che agiscono nel campo dell'economia e della cultura verso un orizzonte digitale, quindi come sfruttare le tecnologie digitali che sono già presenti, già molto ben sviluppate, applicate all'ambito turistico. Questo sappiamo per esperienze nostre, anche a livello europeo, è un fattore di completità eccezionale, ancora però poco sfruttato a livello locale, soprattutto nelle nostre regioni. Quest'oggi quindi introdurrò brevemente il progetto, i suoi obiettivi e quelli che saranno le azioni pilota che vorremmo attuare nel prossimo futuro.